L'area canatesa onora al meglio il suo ultimo giorno di scuola, batte meritatamente la vastese e chiude il più altalenante campionato della sua storia al settimo posto. Un piazzamento lontano anni luce da e desiderata della società, ma qualche barlume di ottimismo si può intravedere per il futuro prossimo. Intanto i giovani ce ne sono di interessanti e qualcuno di ottima qualità e sicuramente almeno negli ultimi due mesi la mano dell'allenatore è sembrata evidente. Dunque un consuntivo double face estremamente deludente rispetto agli obiettivi iniziali, meno amare invece se consideriamo quelle che potrebbero essere le prospettive. Giovanni avete onorato al meglio l'ultimo giorno di scuola, d'altronde lo volevate fortemente. Sì sì l'obiettivo era 50 punti, abbiamo detto che ragazzi ci siamo riusciti, un'annata non facile, siamo riusciti dalla Drizzala, arriva a settimo. Insomma sono contento ma soprattutto per la crescita di tutti i giovani, per come ha giocato la squadra, anche oggi secondo me è un primo tempo strepitoso. Poi naturalmente la stanchezza, Giaccai ha chiesto il cambio, dopo l'ha uguale, però ripeto sono veramente soddisfatto che abbiamo fatto per me un buonissimo lavoro di crescita di tutti. In un momento subentrare non è mai facile perché non sa mai quello che trovi, però sono molto soddisfatto. Un bilancio di questo campionato il più contraddittorio che si potesse immaginare, quanto vi ha condizionato? Sì molto lungo, i ragazzi sono stati veramente bravi fino alla fine, io non posso dire niente, stamattina lo ringraziati perché è stato molto lungo questi tamponi, loro poi hanno sofferto. Io sono entrato a febbraio, perciò veramente bisogna battere le mani perché hanno fatto, da un punto di vista anche professionale, di impegno, sono stati strepitosi. Io poi sono molto esigente, sono un martello e sono stati veramente bravi e l'ultimi due o tre mesi l'abbiamo forse quadrato un po' in ritardo perché non era facile, perché molti giocatori non li conoscevo, la categoria non la conoscevo. Però io penso che giocare a calcio come abbiamo fatto le ultime otto o nove partite non è facile vedere in questa categoria e lo dico io che ho fatto, lo posso dire, perché sono vecchietto e ho fatto anche altre categorie. C'è qualche base interessante per ripartire? Ma io oggi ho finito il lavoro qui e dopo ci saranno altri che decideranno, c'è il Presse che... Le basi interessanti sicuramente anche se dovesse venire qualcun altro, sicuramente la base interessante è una cultura del lavoro, di una serietà, non c'è stata più tanta confusione con me, questo è un dato oggettivo, i giocatori hanno fatto i giocatori e questa è base interessante per il futuro, poi c'è sto io, un altro, mai ho una certa età e sono felice di cui io vivo il momento in modo veramente bello, ringraziato i ragazzi mi hanno fatto sentire l'allenatore vero, per questo altro quello che succede, non mi interessa più niente, mai sono vecchio e vaccinato, anzi il vaccino secondo lo faccio giovedì, perciò ancora non vi vaccino, mezzo vaccinato ecco. La gara odierna ha confermato il recente trend positivo, eccellente la prima frazione dei giallorossi che stavolta poi nella ripresa hanno controllato senza affanni eccessivi. Caldo quasi tropicale al Tubaldi ma nonostante il clima, il ritmo almeno iniziale non è disprezzabile. Subito Giaccaglia apre sulla destra per Gomez, a diagonale che termina di poco fuori. Gli abruzzesi rispondono al diciassettesimo con una punizione di Obodo dal vertice sinistro dell'area di rigore, con il pallone che non termina lontano dall'incrocio dei pali. Al venticinquesimo il gol che decide la partita, solito traversone con il contagiri di Pezzotti e titone magistrale, per usare un termine cestistico in allontanamento, a spedire il pallone in fondo al sacco con Di Rienzo incolpevole. I leopardiani insistono, trentacinquesimo, ottimo movimento di Pezzotti che evita un avversario, scarica il sinistro che termina di un soffio sopra la traversa. Qualche cambio inevitabile nell'intervallo e nella ripresa al decimo l'indiavolato Liguori prende palla a metà campo, salta un paio di avversari, si aggiusta il tiro che termina sul palo. Al diciannovesimo punizione per gli ospiti, traiettoria lunga sulla quale si avventa Martiniello che colpisce il palo esterno con Amadio comunque nei pressi. Poco dopo Curzi offre un bell'assist a Titone che punta l'avversario, si accentra, ma ancora una volta è il montante a tenere in vita la vastese. Gli ospiti ci provano, ma la Recanatese regge. Un'opportunità arriva al quarantunesimo sul pallone perso da Curzi, Martiniello prova a piazzarla, ma Amadio è pronto. Finisce quindi con una vittoria di misura comunque pienamente legittima. Da domani si inizierà a programmare il futuro senza dimenticare però quel pizzico di buono che pure questa disgraziata stagione ha saputo offrire. Le conclusioni con il presidente della Recanatese Adolfo Guzzini. Beh, io direi che peggio di così non poteva andare sul piano di ciò che si è verificato alla nostra squadra. Eriamo partiti tra i primi a vaccinare tutti, a trovare le soluzioni eccetera eccetera e purtroppo poi strada facendo abbiamo visto che siamo stati bloccati per il primo che siamo bloccati. A quel primo stop chiaramente la ripresa è stata una ripresa molto difficile perché i giocatori erano quasi due mesi che non praticavano più insieme la preparazione essendo parecchi soggetti al Covid. E non nascondo anche che anche in questi recuperi noi abbiamo giocato, siamo stati fermi 15 giorni se non ho fatto errato, potremmo recuperare qualche partita, non ci hanno fatto recuperare le partite. E addirittura arrivare oggi a disputare una partita che deve essere svolta in alti tempi, chiaramente addirittura in una settimana, uno, due, tre, quattro partiti in sette giorni. E' una cosa abnorme e io penso che, capisco tutto ma insomma diciamo poi abbiamo avuto anche oggi un arbitraggio che veramente e non è il primo che assolutamente non ci meritavamo perché la documentazione, le riprese testimoniano quanti due cartellini, due ammunizioni per uno veramente assolutamente indifferente, l'altra che non sembra che siano state fatte con cattiverio o quant'altro e ha lasciato correre un po' tutto quanto. Poi mettiamoci insieme questi due pali traversa che comunque non ha consentito di poter maddurare meglio questa diciamo pure ultima partita. Comunque siamo andati a ringraziare con Angelo Camiletti e tutta la squadra, con l'allenatore eccetera perché chiaramente è tutto lo staff che ha partecipato a questo campionato perché chiaramente tutti hanno cercato di dare il massimo sul piano professionale. Ritengo che anche appunto Pagliari abbia avuto un po' di difficoltà nel primo davvio poi abbia riuscito a quadrare la squadra e pertanto a giocare e a portare avanti la squadra con diversi risultati salvo il periodo in cui praticamente c'è stato di nuovo un po' troppi pareggi che ci hanno tagliato fuori definitivamente. Comunque questo è il gioco del calcio, questa è stata l'annata che abbiamo percorso e pertanto ne siamo delusi ma su un piano complessivo che non è dovuto a nessuno ma è dovuto a ciò che ho detto e pertanto invocchiamoci le maniche per l'anno futuro.